Che si tratti di furbizia, indolenza o difficoltà ad effettuare un corretto conferimento dei rifiuti nel rispetto delle regole, il dato di fatto è che dal 7 gennaio è scattato in città il piano dei controlli tolleranza zero, voluto dall'amministrazione comunale e supportato dal personale d'asti. L'obiettivo è contrastare il fenomeno degli errati conferimenti dei rifiuti, ancora largamente diffuso. Così nel solo giorno di lunedì 13 sono state 90 le contestazioni elevate dai vigili urbani con le sanzioni relative per chi nelle vie Amicovalenti, Redentore e San Giovanni e Bosco non ha rispettato le regole. Le prime verifiche la settimana precedente hanno visto i controlli concentrarsi su via Kennedy, via Alcide De Gasperi, via Napoleone e Colai Anni. L'unica soluzione per evitare le contestazioni è rispettare le regole e il calendario settimanale di raccolta, vista la determinazione mostrata nel piano dei controlli ormai serrato.